Ciao a tutti ragazzi, a chi vi parla è GioVibroManda3, noi siamo i Chaos Gamebrother con Simo Schilla che sta giocando a PES E io non ho niente da fare, gioco a Cat Mario per addennarmi e bestemmiare Non sto scherzando, dai E iniziamo Poco Proveggiamo Dai GioVibro Prima di la versa Piano, piano Perfetto, ora Arriviamo al zero guida Oh Cristo, due misteri, veramente la rimborsa a metà montagna, saltiamo Come non si è ironico? Perché ci vuole aggiungere Xbox Live, a destra ci sono i nostri piedi Ma io non lo posso su Meno due, cioè comincio a perdere la pazienza Fino a qua lo so fare, metà montagna salto, poi c'è questo coso che colla e questo che cade Prendila, prendila Ok, siamo arrivati Sì, la bandierina Ma come spacchio posso cadere così? Porco troia Porca Che cazzarito, vedi qua il giocatore Meno 5 Meno 5 Meno 5 Meno 5 Ok, no Eccola qua io E Non lo sapevo, perché io sapevo che comunque c'erano ste cosi Eccose Ma 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 e boh no è perché praticamente c'è non mi fa saltare va lo vedi lo vedi lo vedi lo vedi ma forse con shift corri c'è il shifter no no basta prendere due volte mi mette cioè impossibile questo partazio questo partazio hai visto? va bene ma che culo minchia non ce l'ha come si fa che si deve superare con giuda minchia ho scoperto il mono che prende per il culo allora qua è praticamente saltiamo qua e c'è questo poi risaltiamo di sopra e andiamo avanti questa nuova non la prendete perché è una nuova bastarda qua c'erano questi qua così vabbè meno 15 però non mette la bandierina del cazzo ecco ma come si fa che si deve fare questo livello va a fermirci gollo ma è un segnale fa bordello ancora qua c'è il razzo con la consuma madonna e ora nooo ma come spaccio salto lo vedo la pazienza quindi attacco a bestemmiare io non vorrei bestemmiare in un semplice video di questo porco no 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 spazio non lo devo tenere guarda quello lo asci no perché fino a qua lo fa fare minchia ci godo il ragazzo vi apparece dalla partita a simone ma no non è il gol ma non è il gol polizia è mia fatto i giorni guarda la simulazione simulazione prezzo ma che devo fare il super star Ma la vedi? Non so passare la bandiera Non la so passare Dio, devo fare il golo questo Nooo, ho fatto la finta Segnato? Ciccola La nuova l'assassino Allora qua ci sono i scognossi e la nuova l'assassino Lo sapevo Allora ragazzi Non ci faccio neanche a super ultimo livello figurati E perchè c'è quella luna alla fine che mi scassa la miglia Poi c'è la nuova bastardo Guarda che ci sono I bastardi Poi c'è il missile Bastardo, perfetto Guarda stimo skill io per fuori voglio vedere a te che parli tanto Guarda Prendi a ringrossi e stai Con lo spazio Devi saltare Come cazzo? Prendi dal più lontano Ma come il più lontano? Se l'ho arrivato da sotto Ci provo l'ultima volta ragazzi Prendi il foglio Il pollicino Pollicino Pio Prendi da voi un carticcio Pollicino Pio Prendo Prendi da voi un po' 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 Ma io di dove più lontano ci sono invedimento Andando qua c'è la cosa Ecco Ma forse c'è più qualche altro eh Non lo so forse ci devono andare di sotto Non lo posso fare io Meno 24 Dai ce la devi fare No non ce la faccio Non so dove il spacchio devo andare VIGORE Ma vaffanculo Ma come ci ho salto Non ci sono Vieni Vieni Facciamo cambio Cambio Allora Ma che cazzo Allora qua c'è il pocio Ok No qua si fa chiaro Vabbè ma questi giorni tu vedi 30k No Qua prima vai sul secondo Salti e poi dormi indietro Un secondo Ah ok Aiuto 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 Devo aspettare il missile Devo aspettare il missile No vai ti mette alla bunda E fai un coppo di sopra Perfetto Madonna Guarda giovi bro Ma ci sono AQ si BOOM BOOM La tua prendevi sembra la ringorsa No non la prendo Ragazzi No Pazzito Non si si soppassi Non si soppassi Non si soppassi Quanto siamo la Sì Sì la nuvola, non lo so ricordato a nuvola ma altra volta ma sei coglione allora ma non mi è tornato indietro Meno? Meno 35 video, boh? boh? Basta! Basta! Mi viene di premere spazio ma lo devi premere spazio ma lo devi premere ma lo devi premere ma lo devi premere e non lo devi premere ma lo devi premere faccio uscire qualcuno faccio andare avanti e il monte davanti questo è bene il corpo a segnare e il mio è andato anche per te e la possibilità di scagare ma come minchi si fa? per farsene la palla gialla però l'ho deciso e più sopra e più sotto e più del mare ma che cazzo fa? ma dov'ave... vaffanculo minchiaaa ma non... no ma non sono ascesi quantosì no ma non sono ascesi già non scendo ma Cristo mi sembra che il video a 40 a 40 a 40 No, è laggato, sta laggando Ma ti rendi quando me è laggato Sono le quattro Io direi di concludere ora il video Vaffanculo Vabbè ragazzi Concludiamo il nostro MarioCut Con una brutta delusione Perché noi dobbiamo passare il livello Brutta conclusione Fa sclerare sto gioco Quindi ammetteremo il link in descrizione Per chi si volesse esasperare Dai, cascama è proprio tutto SimoSkilla, Geovibra Ciao ragazzi, al prossimo video